buongiorno radio animati questo video è tutto per voi sto aspettando la famosa intervista la vostra famosa promessa che mi avevate fatto allora il video di goldrick vi è piaciuto ok sono contentissimo fatemi sapere quando ci avete un po di tempo per intervistare l'autore originale della nuova sigla conora che si intitola il ritorno di goldrick questo video è per radio animati da parte di amos zanda e lo voglio mandare sul mitico canale che si chiama messager è un canale di facebook e quindi lo voglio inviare lì in modo che loro mi possano dare una risposta vorrei salutare quelli di radio animati e anche quelli di avr che anche loro le è piaciuto il mio video ok ci vediamo il più presto possibile grazie radio animati e fatemi sapere una risposta che sia quella definitiva ok ciao